Noi siamo con Colangelo, che in questi giorni è stato minacciato, noi siamo con lui e vogliamo che da qui si levi un grido, che arrivi a lui per dire Dottore Colangelo vai avanti, che questi ragazzi, questa città è con te, perché in questa città spira un vento nuovo, è il vento del riscatto. A Cerra dedica al procuratore di Napoli, che i clan volevano far saltare in area col tritolo, la marcia antica morra tenutasi stamane su iniziativa del comune e della rete scolastica per la legalità. Un progetto che va avanti dal 2012, 2000 studenti che al grido di un giorno di legalità per sempre nella legalità si sono radunati in piazza Renella per poi sfilare con striscione e bandierine per le strade della cittadina. E oggi è un momento per rilanciare questa educazione alla legalità, che nel nostro paese purtroppo è scomparsa, per i fatti recenti, per un'educazione che deve essere rilanciata e si può ripartire solo dalla scuola. La legalità secondo me è l'allontanamento dalla mafia, è combattere contro la mafia, gridare giustizia. La legalità per me è come forse una legge, bisogna rispettarla se vogliamo vivere meglio. E soprattutto rispettare gli altri e soprattutto se stessi, perché questa è la legalità. A ottobre che un uomo è stato ucciso a piazza San Pietro, un evento veramente vergognoso, anche perché si è consumato nell'omertà. Diciamo che passandoci qualche ora dopo, semplicemente c'era gente che si limitava a spazzare il sangue. Tanto silenzio, poche parole, nessuno pare aver visto niente. Purtroppo è una situazione che si ripete molto spesso, perché molto spesso nessuno vede niente. Purtroppo è una situazione che si ripete molto spesso.